Si chiama Giuseppe Madonna, quindi quale nome è il mio posto? Lascia il microfono, se mi accompagna. Salve, buonasera, sono emozionatissimo, sono preso in cenergia. Sono emozionatissimo, sono preso in cenergia. Allora, andiamo. Siia 좋ina, siia, starsồng. Ma bella mia montagna, ice는 dogma bella che suite Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.